Pifferi, come giudica questa spending review? Questo come tanti altri provvedimenti sanno più di ragioniere, quindi di tagli alla spesa senza ragionare su una crescita e su una necessità di riorganizzare un po' la struttura dello Stato. Parte un po' da lontano questo spending review perché adesso noi leggiamo dai giornali i provvedimenti i 20.000 meno personale nella pubblica amministrazione e però nel 2011 abbiamo ancora autorizzato in Sicilia 20.000 stabilizzazioni, quindi l'amministrazione pubblica ha troppi controsensi, bisogna anche su questo essere chiari e avere il coraggio di capire cosa bisogna effettivamente tagliare. Le casse dello Stato spendono nel 2012 ancora 30 miliardi per le spese militari, ne hanno nei prossimi anni altri 10 solo per i 100 F-35 che dobbiamo comprare, caccia bombardieri, spendiamo ogni anno e nel 2012 sono ancora 1 miliardo e 400 milioni per le missioni di soldati all'estero, in particolare l'Afghanistan e il Libano. Bisogna avere il coraggio di vedere anche queste spese perché se non andiamo a intaccare la sostanza di quello che noi spendiamo noi continueremo a pagare e fare dei tagli, dobbiamo pensare alla crescita, posti di lavoro e aziende che vanno salvaguardate perché se no leggiamo sì in positivo che l'Imu l'abbiamo pagato a tutti e quindi abbiamo raccolto 9 miliardi e mezzo con la prima rata, ma si legge anche che lo Stato ha incassato l'1% in meno di IVA pur avendo avuto l'1% di aumento di IVA, quindi in realtà è più del 2% l'IVA in meno incassata e quindi dobbiamo stare attenti perché se continuiamo a far chiudere poi alla fine i conti non quadreranno mai.